ciao a tutti e benvenuti alla nuova puntata di crime in comedy il podcast di true crime condotto da due comici i vostri clara campi e marco sciampier allora visto che siamo quasi alla festa della donna donne una puntata solo per voi una puntata che metterà in luce tutti gli errori che fate no con noi uomini perfetto proprio la puntata giusta bene la puntata giusta la puntata giusta perché oggi parleremo del gentiluomo supremo del supreme gentleman eliot roger ma marco in realtà non so se questa è proprio la puntata giusta per la festa della donna vabbè vabbè comunque fa niente no no esatto perché oggi appunto parliamo del re degli incel eliot roger e clara ha detto meno male che questa puntata la fai tu perché l'avessi fatta io siccome clara non ci sarà in questa puntata evidente se mi ha detto così è perché adesso prende va me ne vado me ne vado o dovrò fare in modo di stare zitta no allora spiego do un secondo di background a questa cosa così chi ci ascolta capisce di cosa stiamo parlando io ho fatto anche un tic toc su questo eliot roger che è andato virale e sono arrivati ovviamente in massa tutti gli incel o incel che secondo me suona pure meglio e a insultare a criticare insomma sembra quasi intoccabile sto tizio che è il più sfigato di tutti tra l'altro quindi anche molto facile prenderlo in giro e però c'è stata una grande indignazione perché devo dire una cosa ragazzi in questa puntata forse parleremo male degli incel che sono chi ci segue da tanto lo sa forse che sono gli involuntary celibate cioè i celeb involontari cioè quelli che vorrebbero scopare ma nessuno se li scopa sì però ne parliamo poi dopo no no dopo ne parliamo bene sto solamente dicendo questa cosa e devo dire devo spezzare una lancia al loro favore nel senso è gente che si sa organizzare benissimo perché sanno organizzare i gruppi per fare le shitstorm e quindi per questo ho detto a marco guarda meno male che non la presento io perché già quelli sono riusciti a farmi chiudere una pagina di facebook non da soli non da soli insieme alle femministe che avevano deciso che io non ero femminista nel modo giusto c'è stata un'alleanza molto interessante lì basta però parlare dei fatti miei ora passiamo a crime and comedy passiamo a crime and comedy ma passiamo a salutare gli ultimi iscritti gli ultimi crime stalker iscritti che sono chiara giadi e sarah con la h perché lei è scritto sarah con l'h finale poi ha precisato con l'h tutto perché bisognava dirlo per quello è scritto sì sì esatto esatto quindi grazie mille per per esservi iscritti poi facciamo gli auguri di compleanno ai patron iscritti e quindi tanti auguri a salvi e fede che ringraziamo anche per per l'iscrizione a anna rita leone e sguidelli che anche lui ringraziamo penso che sia un lui o una lei queste cose non si possono sapere di solito in patreon sono più di sesso femminile che maschile però questa i finale è infatti quindi tanti auguri e grazie anche a te per per l'iscrizione e poi ringraziamo gli ultimi patreon i bristofili iscritti che sono michele momesso sofia sini claudia bartoli alice bandito che è tornata grazie alice per essere tornata leo rau aurora punzi giulia manzoni giulia manzoni forse saretta giulia pezzuto ilaria giangrande ciao ilaria e saluteci john che è di nuovo sì che è sparito john che è scomparso nel nulla facci sapere se esiste ancora sì sì esatto non è un parto della nostra immaginazione comunque poi alessandro bellino debbie semi che è tornata anche lei veronica miss lilla 84 daria e maria glau f eleonora sanni bella nel bosco tornata anche lei grazie mille lorenzo da forno e icela grazie mille ragazzi per esservi iscritti e e poi niente poi questa puntata ce l'hanno se ce l'avete richiesto in tantissimi ma ce l'hanno richiesta in particolare i nostri chiara zappatore e alessandro traversari che sono due patreon di roma che vengono a tutte le le live che facciamo e e lei è quella che mi fissa mentre parlo e annuisce o dice di no se sbaglio qualcosa se sbaglio qualcosa mi fa sentire molto sotto pressione comunque ragazzi ma come ma poverina ma non è vero viene alle live perché le piacciono sì sì no mica per giudicarti ma secondo me secondo me sì secondo me sì comunque grazie mille e tra l'altro forse ci sarà la voce di di alessandro nella live che abbiamo fatto a roma perché è lui che è intervenuto spiegandoci una cosa della puntata che abbiamo fatto a roma ma tu vedi benissimo marco perché io durante le live cioè d'altronde avendo la luce puntata addosso non si vedono le persone tu le riconosci seduti in platea sì sì perché avendo le luci puntate addosso io sudo tantissimo il mio sudore recepisce tipo pipistrello la gente che meraviglia parlando di live ragazzi a marzo abbiamo ben tre date una a firenze che è sold out quindi se non avete i biglietti non c'è niente da fare una a milano che invece ci sono ancora biglietti il 19 marzo quindi andate sul nostro sito cremencomedy.it sezione live potete acquistare i biglietti lì e il 28 marzo una a mestre che ci stiamo avvicinando molto al sold out quando uscirà questa puntata non so se ci saranno ancora biglietti o meno però controllate assolutamente perché se ci sono sono gli ultimi insomma esatto sì sì perché forse forse già sold out cioè ho visto no perché perché puoi scegliere il posto però hanno tenuto da parte alcuni posti per l'assegnazione casuale quindi sono rimasti dei posti in assegnazione casuale nel momento in cui stiamo registrando poi nel momento in cui uscirà la puntata non lo sappiamo però se volete venire a vederci in veneto controllate ora o sarà troppo tardi sì sì perché tanto non torneremo mai più il veneto è pericolosissimo come abbiamo dimostrato più volte non è vero però non torneremo sicuramente questa primavera dovrete aspettare molto quindi venite se potete ogni tre anni comunque tre anni e mezzo comunque buttiamoci nella nella puntata perché è una puntata un po' pregna no allora parleremo di ovviamente elliot roger che elliot roger ha fatto un danno inconcepibile nel 2014 a islavista che è nel sud della california nella baja california però lui non è californiano non è americano lui nasce il 24 luglio del 1991 a londra in inghilterra e nasce come elliot oliver robertson roger ed è un discendente di una famiglia importante perché io non lo sapevo l'ho scoperto studiando questa storia il nonno di elliot è george roger che è un famosissimo fotoreporter degli anni 40 30 40 50 ed è uno dei fondatori della magnum photos eh sì nel 47 è una cosa che ma c'è io conoscevo il fotografo roger ma non pensavo fosse il nonno di sto psicopatico di cui parliamo oggi eh ma sto psicopatico c'è un sacco di connessioni comunque tantissime poi ne vedremo tutte però sì che tra l'altro vediamo anche adesso a breve eh sì 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 perché il padre Peter Roger è un regista inglese che ha l'attivo tipo adesso due film e mezzo nel senso che ha un film del 2009 che si chiama Oh My God sì che è un documentario su come le persone si relazionano a Dio che però non ha fatto grande successo ai festival da quello che ha letto no esatto infatti perché allora il film è basato su lui che chiede a delle persone importanti come appunto Ringo Starrio, Jackman, David Copperfield, il mago non il bambino quello di beh essendo inglese magari certo sì il Bob Geldof e Buzz Lurman per nominare quelli più famosi lui gli chiede What is God? cioè che cos'è Dio? chi è Dio? che cos'è Dio per te? no? e loro rispondono che già così sulla carta a me sembra una roba cioè a me che cazzo me ne frega che cosa pensa Dio Jack? cioè fai Wolverine a me interessa che fai Wolverine Marco perché tu sei un arido ateo sì 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 come me d'altronde perché c'è modo e modo di essere atei quando sei arido non te ne frega un cazzo queste questioni spirituali ma non è che non è essere ateo cioè nel senso che io non credo io non credo sono ateo ma non credo neanche a Hugh Jackman cioè nel senso a me piace quando fa Wolverine ma tu in generale non vuoi che parli Hugh Jackman? sì in generale sì ma anche David Copperfield cioè fai sparire la stata della libertà ma fermati lì cioè nel senso a me comunque il film non è andato benissimo come dicevi tu allora Elliot poi dirà nel suo dirà di suo padre nel come si dice nel suo manifesto esatto sì nel suo manifesto di cui parleremo ampiamente fra poco e comunque verso la fine della storia dice di suo padre dice che sarebbe diventato ricco grazie al film ma l'ha mandato in bancarotta perché è quello che è successo al papà di Elliot Roger sì ma perché comunque il papà veniva da una famiglia molto ricca visto il nonno no? sì quindi i soldi ce li aveva ha deciso di fare il regista perché sicuramente aveva dei contatti con adesso ci fa causa perché lui adesso dopo questa cosa qui ci fa causa vabbè però secondo me è così posso dire solo una cosa sul manifesto subito? sì 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 che gran parte della storia di Elliot comunque arriva da questo manifesto che ha scritto lui quindi ovviamente poi è un fatto recente sono state intervistate diverse persone che lo conoscevano quindi non è che abbiamo solo quello per ricostruire la sua storia però molti dei fatti che spesso vengono dati proprio come fatti negli articoli così in realtà sono cose che ha scritto lui quindi io ribadisco la cosa che dico sempre prendiamo comunque con le pinze assolutamente assolutamente ecco poi tra l'altro un manifesto, un'autobiografia cioè il manifesto dovrebbe essere una roba cioè Luna Bomber ha scritto un manifesto infatti Elliot Roger ha scritto un poster di 141 pagine ragazzi sì 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 una roba fuori di testa che trovate online comunque il suo padre non ha fatto solo sto film Oh My God poi ha fatto una roba per la televisione ma è stato anche aiuto regista di The Hunger Games nel primo nel 2012 che aiuto regista è quello che porta il caffè al regista non è vero no no pare abbia fatto ma lui gestiva sì lo stavi dicendo mi sa scusa gestiva la seconda unità pare gestisse la seconda unità del genere il regista la seconda unità è quello che deve fare determinate scene magari i feel tra un i raccordi tra una scena e l'altra i campi lunghi o magari alcune scene d'azione non particolarmente impegnative su ovviamente direzione del regista cioè nel senso il regista gli dice voglio che la scena la fai così e lui la fa così esatto però comunque è il regista che lo delega perché tante volte addirittura la seconda unità magari registra delle cose in contemporanea con la prima unità che magari stanno stanno inquadrando gli attori principali una scena importante e l'altro deve fare tutte le scene della folla non lo so cose di questo tipo spiegare ai nostri ascoltatori che magari non sanno che cos'è la seconda unità sì la seconda unità in genere fa appunto i feel delle scene quindi magari i campi lunghi quelle di folla mentre poi che vengono poi montati nel film o ad esempio ci sono anche i registi che non sanno occuparsi delle scene d'azione quindi magari la seconda unità si dedica alle scene d'azione perché sono ex stuntmen sono gente abituata a fare scene d'azione o magari fanno i particolari tipo non so nei vari Fast and Furious la seconda unità in genere inquadra le ruote che girano ok che poi quelle inquadrature un po' così le fa la seconda unità comunque appunto lui ha fatto così per Hunger Games la seconda unità aiuto il regista sicuramente è stato un lavoro ben pagato assolutamente assolutamente comunque appunto per il suo lavoro conosce la madre di Elliot che si chiama Li Chin Tie o Tai perché è una donna cinomalese no? infatti Elliot poi sarà cinoamericano sì dice così eh però comunque suo padre è inglese quindi ah già giusto cino inglese eurocinese euro eh sì eurocinese cioè comunque non lo so comunque no lo diciamo perché è una cosa che a lui peserà molto questo come tante altre cose a lui queste cose peseranno molto sì vabbè lui pesa qualsiasi cosa lui pesa qualsiasi cosa nel 96 quando lui ha 5 anni nasce sua sorella minore che Georgia Roger sì nel 98 Peter e Li Chin quindi la madre e il padre si separano si separano e Peter si trasferisce in America in California ma mi pare proprio a Los Angeles perché forse voleva intraprendere quella zona lì sicura beh sì 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 cioè c'è un motivo si è andato proprio lì sì sì e nel 99 si sposa con Sumaya Akabuna che sarebbe un'attrice di origine marocchina ed ex ballerina che è stata con cui palesemente aveva una relazione da prima che prima del divorzio certo perché poi anche Elliot dice che c'è il primo giorno che è andato da suo padre c'era già questa qui in casa assolutamente vabbè vabbè comunque loro subito quasi subito hanno un figlio il fratellastro di Elliot che lo chiamano Jets proprio come la musica quella di merda che non piace no no non è vero non è vero non è vero sto scherzando adesso si arrabbiano anche i Jets esatto no appunto hanno questo figlio che si chiama appunto Jets Roger e Elliot con Sumaya non andrà mai d'accordo anzi lei proverà anche a diciamo stargli dietro ma lui la vedrà sempre come una persona estranea che lo costringe a fare cose anche perché comunque dal divorzio i figli di Peter e Li Chin sono stati in affidamento condiviso certo e quindi loro stanno Elliot sta sicuramente col padre la sorella Georgia non lo so forse sta con la madre perché non rientra nella storia sì infatti può darsi può darsi comunque guarda perché Sumaya cercava di essere una brava matrigna però ha fatto le cose nel modo sbagliato secondo me perché dato che la mia impressione è che Elliot non fosse molto seguito da nessuno dei genitori lei cercava di seguirlo ma facendo le cose proprio come una madre no cioè non giocare troppo ai videogiochi cercava anche di responsabilizzarlo sì sì il problema è che se sei uno step parent quindi una matrigna in questo caso non ti puoi imporre subito come genitore soprattutto con un ragazzo di quell'età lì che non è non è ancora cioè aspetta con un ragazzo di quell'età lì che è ancora che non è più piccolo insomma che sta diventando un ragazzino secondo me non è il modo giusto in cui porsi con tutto che lei palesemente l'ha fatto a fin di bene sì sì assolutamente sì poi lui tra l'altro quando i genitori si sposano quando suo padre sposa Somalia in realtà lui di lì a poco lo mandano subito in dallo psicologo dallo psicologo dallo psichiatra a fare delle sedute perché sta già mostrando dei segni che richiedono comunque un intervento di un esperto però appunto Somalia è è anche lei è importante allora la mamma di di Elliot faceva l'infermiera sui set delle grandi produzioni perché ovviamente quando ci sono i set i film eccetera c'è anche tutta sì c'è l'infermiera come l'infermiera della scuola sì 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 stavo dicendo sì c'è tutto il primo soccorso quindi appunto le infermieri in caso di incidenti e ad esempio Alec Baldwin sa qualcosa no che ultimamente no comunque ci sono e tra l'altro sua madre è stata anche fidanzata con George Lucas tanto che lui poi è stato invitato è andato alle prime della nuova della nuova vecchia trilogia di Star Wars i capitoli 1 2 3 che sono usciti dopo il 2000 così esatto quindi cioè sono stati insieme e poi sono rimasti anche amici ma sì ma cioè George Lucas è così ricco che anch'io gli rimarrei amico anche se venisse tipo di notte a bagnarmi il letto a darmi le sberle a svegliarmi cioè gli direi dai zio fa niente rimaniamo amici andiamo a prenderci una birra ok ok no a parte scherzi sì sì no comunque sono evidentemente rimasti amici o comunque la produzione poi invitava tutti cioè se lei aveva fatto l'infermiera sui film magari per le prime la produzione li invitava non lo so è possibile comunque anche Somalia prova a entrare cioè è nel mondo di Hollywood comunque e lei fa qualche film famoso ma piccolissime parti nei film famosi fa Green Zone con Matt Damon poi quello che sa sull'amore cioè fa una particina e poi anche in Lovelace con Amanda Seyfried che è sulla storia di Linda Lovelace quella di Gola Profonda sì sì il biopic quel film lì lei fa un personaggio piccolino ok e poi nel 2013 è protagonista della versione americana francese di uno spin off di Real Housewife ah fantastico veramente sì perché cavolo come mi sono persa questa parte porca miseria allora perché è la versione delle donne francesi a Beverly Hills è una cosa che trovano orribile sia gli spettatori che la critica infatti io sono andato a vedere è l'unico spin off di The Real Housewife che dura una stagione sola no e quindi proprio una roba così e poi tornerà comunque nel 2014 mi pare che torni in Francia o da quelle parti lì a recitare Marocco Francia comunque appunto stavano dicendo che Elliot ha problemi con Somaia perché Somaia si impone prova a fare la matrigna buona e lui ha già qualche problema infatti già a otto anni comincia a frequentare diversi terapisti perché comunque vedevano i genitori cioè Somaia il padre Somaia perché i genitori non lo so quanto vedessero però vabbè ok perché ha dovuto arrivare lei per mandarlo in terapia io ho notato questa cosa eh ma infatti infatti perché appunto vedevano che comunque lui aveva dei comportamenti diciamo strani soprattutto non riusciva a socializzare con gli altri bambini lui diceva di essere vittima di bullismo no già alle elementari però anche lì bisogna capire se era lui che cioè se effettivamente gli davano addosso o se magari era lui che facendo fatica perché poi questa cosa la dico non per colpevolizzarlo ma per perché dopo dire delle cose che sono effettivamente che ti fanno pensare sul fatto che probabilmente era lui che attaccava gli altri sì e quindi gli altri reagivano no sì cioè lui in realtà secondo me era più un po' lui bullo e poi dopo che gli altri gli altri non volevano giocare con lui perché era un po' bullo allora lui dice ah non vogliono giocare con me sono vittima di bullismo insomma quelli che proprio vogliono fare le vittime a tutti i costi senza esserlo è infatti è la sensazione che ho avuto io ovviamente non ci sono prove cioè sono nostre opinioni e tutte le cose non sono per giustificare quello che viene fatto dopo ma è per dare una cercare di capire come si è arrivati a quel punto lì non è per giustificare comunque appunto questo bullismo che lui dice di subire va avanti per tutte le elementari e va avanti anche le medie no le scuole medie tanto che lui quando ha 11 anni si invaghisce di questa bambina perché lei comunque ha un anno in meno di lui 10 anni che è Monette Moio e lei frequenta ancora forse la quinta elementare cioè la quinta elementare in realtà al quinto grado degli Stati Uniti lui già al sesto così e poi lui dirà di lei nel nel suo manifesto di cui appunto parleremo meglio dopo dirà questo la mia esperienza durante la scuola media ha davvero scurato la mia visione del mondo e da quel momento scusa no figurati e da quel momento in poi sarebbe diventata ancora più scura poiché soffrivo sempre di più il modo in cui venivo trattato dalle ragazze in quel periodo soprattutto da quella malvagia stronza di Monette Moio scatenò scatenò un'intensa paura nei confronti delle ragazze lui dà a questa Monette la colpa di tutto lei è quella che gli ha reso la vita con le ragazze impossibile certo e poi continua con la parte divertente è che aveva una cotta segreta per Monette è stata la prima ragazza per cui ho avuto una cotta e non l'ho mai ammesso con nessuno essere preso in giro ridicolizzato dalla ragazza per cui aveva una cotta mi ha ferito profondamente oh poverino il mondo in cui sono cresciuto pensando fosse luminoso e felice era finito che cosa drammatica sì molto meno drammatica ma sai che mentre parlavi della scuola nera della scuola nera ciao della scuola media l'oscurità della scuola media a me è venuto in mente Truce Baldazzi vendetta vera è possibile vero però non vorrei mai offendere Truce Baldazzi comparandolo con lui no no chiare alto comunque va avanti vivevo in un mondo depravato e non volevo accettarlo non volevo pensarci ecco perché mi sono immerso completamente nei miei giochi online come World of Warcraft mi sentivo al sicuro lì l'ho odiata l'ho odiata così tanto e non la dimenticherò mai ho iniziato a odiare tutte le ragazze per questo motivo le vedevo come creature meschine crudeli e senza cuore che traevano piacere dalla mia sofferenza qui che monette che cazzo gli fa nel senso a undici anni poi a undici anni a undici anni partiamo già estremamente ridicoli esatto poi lui oltre ad avere un'ossessione per questa monette che si porterà avanti per tutta la vita perché lui questa cosa qui l'ha scritta a 21 anni no cioè quindi lui ce l'aveva anche col fratello di monette il fratello più grande che è questo Ashton Ashton Moio che tra l'altro il padre di monette faceva lo stuntman e il fratello era anche uno stuntman importante ai tempi e il fratello stava seguendo le sue orme anche lui stava cominciando a lavorare come stuntman perché ovviamente anche i ragazzi cioè anche gli attori giovani hanno bisogno di stuntman e quindi lui dice di appunto Ashton ho cercato di comportarmi nel modo più freddo e sicuro possibile anche se mi sentivo intimidito da lui era uno dei ragazzi più popolari a scuola e ora stava diventando un attore una delle carriere più attraenti che un uomo possa avere supponevo che probabilmente fosse andato a letto con innumerevoli belle ragazze accidenti a lui mmm ma cosa te ne frega di con chi va a letto questo qua eh ma infatti questa qui sarà una cosa importante ho avuto una breve conversazione con lui prima di cercare di allontanarmi dalla sua presenza il più velocemente possibile non volevo che scoprisse quanto fosse patetica la mia vita sì perché sei figlio di un padre che fa il regista avete un sacco di soldi vivi in una zona molto ricca cioè hai avuto sempre tutto quello che chiedevi ma infatti ma infatti andavi sempre nei parchi di divertimento a lui piaceva andare agli Universal Studios sì vogliamo parlare del trauma che ha avuto agli Universal Studios poverino che anche questo ne parla nel manifesto per lui questo è stato un trauma perché lui aveva la fissa sicuramente ne parlerai del fatto che era basso sì tra l'altro non era basso per un cazzo no era più alto di me quindi che cazzo vuoi Elliot sì perché era tipo 1,75 quasi un po' più di 1,70 quindi cioè non è che sei basso non sei alto ma non sei basso comunque questa roba se la porta dietro dall'infanzia perché lui un giorno va agli Universal Studios e c'è la nuova attrazione di Jurassic Park dove ci sono i dinosauri e allora lui fa la fila con i suoi amici fa un'ora di fila quando arriva finalmente all'attrazione non lo fanno salire perché è troppo basso e questa cosa lo fa arrabbiare allora lui è stato costretto ad andare sull'attrazione di Et che lo ha spaventato tanto oh mamma mia questi sono i traumi infantili però io posso dire una cosa com'è possibile che hai fatto un'ora di fila poi non ti hanno fatto salire vuol dire che prima di entrare a fare la fila non ti sei misurato col comodo metro che agli Universal Studios c'è ecco quindi sei tu che sei pirla sì ma poi poi dipende da che età è andato perché c'è se sei alto un metro e settantacinque ti fanno salire sulla trazione a meno che no era un ragazzino secondo me è sempre in quel periodo oscuro delle medie però la cosa che ci è rimasto male è che lui era con amici agli Universal e gli altri erano tutti più alti di lui sì ah ok ma sì sarà stato alle medie magari lui si è sviluppato un po' più tardi e quindi era quel centimetro sotto il limite sì sì che poi boh magari vai a vedere che cioè ne si so anche l'ha detto che ti fa salire sulle attrazioni quanto è fiscale sì alcuni rompono il cazzo altri manco guardano sì perché anche a me cioè a Gardner a volte mi fanno salire a volte no dipende sulle attrazioni no comunque lui nel suo manifesto ce l'ha anche con un'altra bambina che era amica sua da quando aveva 5 anni e lui scrive è stata la prima amica che abbia mai avuto e sarebbe stata anche l'ultima poi ce l'ha con lei perché lei è cresciuta cresciuta normalmente e come tutte le ragazze si è fatta altri amici no dice ora era un adolescente completamente cresciuta era una tipica ragazza carina che aveva molti amici lei era una di loro una dei ragazzi popolari la mia prima amica in America era cresciuta per diventare il tipo di persona che mi ha causato così tanto dolore nella vita alla fine sarebbe arrivata a rappresentare tutto ciò che odio cioè che già da queste cose qua si capisce che comunque se la suona e se la canta e se la balla da solo si subito c'è qualcosa che non va perché allora nel periodo prepuberale e in quello adolescenziale insomma è facile essere presi da sentimenti di di depressione adesso non sto usando proprio la parola giusta però appunto avere rabbia essere anche perché comunque stai crescendo ma sei ancora molto immaturo no certo e magari vivi le sensazioni in modo forte quindi quello ci sta però lui boh cioè come se vive in un altro mondo cioè lui interpreta come torti cose che non sono torti sì sì lui ce l'avrà lui ce l'avrà con tutti ma allora ovviamente categorizzerà il suo odio no verso le ragazze verso i ragazzi e darà delle motivazioni in realtà il suo odio è a 360 gradi sì ma per una questione che lui non non riuscirà ad avere mai una concezione di sé avrà sempre una concezione di sé rispetto agli altri che è la cosa più sbagliata in assoluto che è una cosa che potrebbe succedere se appunto non hai persone in famiglia che ti non dico che ti crescono che però ti stanno dietro cercano di capirti cercano di capire che chi sei che cosa vuoi e alimentano queste tue passioni lui probabilmente è dovuto crescere da solo e ha visto negli altri dei punti di riferimento che sono irraggiungibili perché gli altri sono gli altri tu sei tu con tutti i tuoi pregi e con tutti i tuoi difetti che abbiamo tutti però nessuno ne fa una malattia esatto di sta cosa cosa che poi lui invece farà eh sì ma secondo me guarda io normalmente cioè adesso non è colpa dei genitori se i figli fanno cose no certo assolutamente però in questo caso secondo me c'è stato non era un bambino seguito eh poi non aveva sicurezza in se stesso si sentiva che doveva sempre provare qualcosa agli altri con suo padre anche c'è un rapporto un po' strano secondo me perché lui vedeva suo padre come quello figo che rimorchiava e lui si sentiva diverso da suo padre cioè sì poi lui quando quando farà quello che che farà beh crime and comedy questo sì esatto quindi da qualche parte andremo a parare comunque lui avrà il dubbio se fare la stessa cosa anche a suo padre e a suo fratellastro e alla sua matrigna no e avrà poi ci ripenserà perché lui dice sarebbe stato troppo pericoloso ma avrebbero preso subito no una cosa del genere però comunque anche loro rientrano nel suo piano folle diabolico comunque appunto questa cosa del del bullismo pare che non si fermi pare che continui anche le superiori per questo dicevo che forse all'elementari non era proprio vittima di bullismo ma era lui che scatenava qualcosa negli altri perché cioè è un bullismo che lui subisce per tutta la sua vita scolastica a sentire lui a sentire lui perché comunque lui ad esempio comincia ad andare alle superiori alla Crespi Carmelin High School che è una scuola solo maschile di Enzino no e lì subisce un torto che a me fa molto ridere però subisce un torto e smetterà di andare in quella scuola lì perché a un certo punto lui pare si addormenti su un banco e i suoi compagni di classe gli scocciano la testa sul banco mentre dorme che è una cosa che è una cosa bastardo ma a me fa molto ridere poi cioè dipende cioè adesso non è che voglio giustificare perché comunque con lo scotch ti strappi i capelli non è una cosa da fare non fatela per favore però è un prank come dicono gli americani è uno scherzo ma infatti cioè non è è un brutto prank ok è un brutto scherzo però sono quelle cagate che i ragazzi fanno a quell'età ma assolutamente ma allora posso dire io l'anno scorso mi sono operato all'occhio no perché ho avuto un problema all'occhio così per tenermi fermo no siccome ero un po' agitato a parte avermi drogato solo che devo stare sveglio mi hanno drogato a morte quasi però ho visto che comunque sì no cioè mi hanno dato del come si dice di tranquillanti molto potenti ok e poi visto che ero sdraiato su sta brandina su sta lettiga no con c'era la sporgenza per appoggiarla a testa no e dovevo stare sdraiato a testa guardando verso l'alto l'infermiere mi dice io ti vedo agitato adesso ti metto lo scotch così tieni la testa ferma tanto non ti fa niente che sei pelato no e prendi ti ho preso lo scotch e mi ha scocciato la testa alla lettiga ma mi ha fatto tipo 3-4 giri poi quando sono uscito alla sala operatore non riuscivo ad alzarmi perché ero tutto legato non riuscivo a togliere sto scotch comunque non me la sono presa con questi infermiere me la sono legata al dito no perché prima o poi loro incontrerò sto qua però cioè no è stata una cosa anche di mi veniva da ridere a me comunque appunto lui lascia questa scuola per questo scherzo qua poi si trasferisce alla taft high school per una settimana perché anche lì lo bullizzano e quindi deve mollare la scuola e poi finisce la continuation high school dove più o meno cioè dove più o meno dove si laurerà si diplomerà nel 2009 però nel 2007 ha la prima diagnosi la prima e unica diagnosi che in realtà prima e unica no perché poi ce ne sarà un'altra ha la prima diagnosi dove appunto viene diagnosticato con un disturbo pervasivo dello sviluppo non altrimenti specificato che nel questo qua siamo nel 2007 lui ha 16 anni nel 2013 questo questo disturbo nel DSM 5 verrà inserito nel disturbo dello spettro autistico ok sono andato a vedere sul DSM 5 quali sono le caratteristiche di questo disturbo ed è difficoltà di comunicazione per esempio a usare e comprendere il linguaggio difficoltà con il comportamento sociale uno sviluppo di competenze disomogeneo ossia tu impari a fare bene alcune cose e non riesci a farne tante cioè altre no non tante però altre poi un insolito gioco con giocattoli e altri oggetti nel senso che comincia cioè che usi i giocattoli o gli oggetti in modo non appropriato più o meno cioè te li infili su per il culo cioè in che senso non ha no nel senso che il big gym si gioca col big gym e tu lo usi come se fosse un martello per piantare i chiocchi cose del genere capisco che possa essere un po' inquietante un bambino che lo usa come martello ok ho capito poi movimenti ripetitivi del corpo o modelli di comportamento sbagliato preoccupazione derivante da fantasie che interferiscono con la realtà e che non è normale avere ad una certa età a seconda delle norme sociali culturali e religiose perché comunque lui è un ragazzo cioè questa cosa si diagnostica ovviamente ai ragazzi perché è un disturbo dello sviluppo certo no sì poi percezioni non convenzionali del mondo che ti circonda sogno d'occhi aperti disadattivo sogno d'occhi aperti eccessivo che interferisce con la vita quotidiana cioè tutti magari da ragazzi ci sogniamo cioè ci sogniamo o immaginiamo le cose quando queste poi per noi diventano vere diventa un problema ok ok e quindi lui viene diagnosticato con questa cosa ed è in questo periodo che comincia a giocare con World of Warcraft ma si ossessiona e rimarrà ossessionato per i prossimi quattro anni fino al 2011 più o meno fino a vent'anni e tutti si sorvolano su sta cosa però in realtà secondo me è importante perché World of Warcraft non è solo un videogioco no cioè nel senso non è code che tu dici è uno sparatutto e ti ossessioni con una cosa che è estremamente ripetitiva è una cosa cioè che non ha un fine no invece World of Warcraft è un gioco di ruolo online persistente nel senso che con cui poi ti confronti anche con altre persone perché online quindi giochi anche con gli altri giocatori esatto giochi anche con altri giocatori e soprattutto il mondo non finisce quando spegni il gioco il mondo continua ad andare quindi tu quando torni poi quando ricominci a giocare è passato del tempo nel mondo però il mondo è sempre lo stesso non si è resettato da zero non è che stai ricominciando a giocare quindi è un mondo persistente ed è importante perché lì ti fai il tuo personaggio come vuoi tu con le caratteristiche che vuoi tu con la forma il colore l'altezza eccetera e puoi essere interpreti qualcuno appunto come diceva dicevi tu Clara dove ci sono altri giocatori e puoi essere più o meno quello che vuoi quello che facciamo oggi più o meno con i social con Instagram eccetera lì si faceva con World of Warcraft eh sì sì oppure tanti lo facevano con The Sims con The Sims che è un'altra cosa se sei una persona più pacifica che vuoi semplicemente fare le famiglie con la gente che fa carriera si riproduce Sims eh assolutamente perfetto infatti io non ho toccato The Sims 4 perché ho detto nella mia vita vorrò fare qualcosa no perché se io tocco The Sims 4 basta ragazzi scompaio è finita se volete bene crime and comedy tenetemi lontano da The Sims esatto che non lo so poi magari mi fa cagare io ero molto affezionata al 2 non credo però vabbè il 4 mi sa che mi piace però mi sto tenendo lontana ok bravo bravo teniti lontano no comunque cioè è importante anche il tipo di videogioco con cui si ossessiona perché come ad esempio era successo anche con Second Life ti fai una vita alternativa in un mondo virtuale dove tu puoi essere cioè dove tu controlli quello che sei non ti viene dato da tra virgolette madre natura o perché nasci così giusto se così devi rimanere così decidi tu quello e questo qui secondo me è molto importante però vedo che tutti schippano su sta cosa qua perché hanno paura a parlarne perché hanno paura di dire ah che qualcuno gli dica ah siete dei bigotti non è certo colpa dei videogiochi se la gente è violenta vabbè ma grazie al cazzo però non è non è un'analisi così superficiale quella che stiamo cercando di fare no 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 esatto no hai ragione e poi ecco in questi mondi nei videogiochi in generale secondo me infatti molte persone magari un po' depresse così capita che si rifugino nei videogiochi perché il videogioco è meritocratico e la vita no quindi nel videogioco se tu hai degli obiettivi e tu fai le cose che devi fare li raggiungi gli obiettivi il tuo personaggio si arricchisce costruisci la casa più grande ma questo vale per tutti i videogiochi e non solo per quelli complessi come World of Warcraft anche per Candy Crash non lo so cioè tu sai che se tu abbini quelle cazzo di caramelle hai vinto il livello e vinci le monete la vita non è così non è una strada dritta in cui se tu segui le istruzioni ottieni quello che vuoi ottenere e quindi insomma quando tu ti senti di non avere controllo della tua vita è solo che naturale secondo me rifugiarsi un po' nei videogiochi perché ti danno quella cosa che ah se faccio quello che devo fare ottengo il risultato che voglio assolutamente poi i videogiochi hanno delle regole precise eh sì che sono uguali dall'inizio alla fine no e quindi c'è nel senso anche questo qua ti dà un'idea del non succede niente di improvviso e imprevisto cioè tutte le cose improvvise e impreviste seguono comunque delle regole certo sì sì e quindi anche quello lì dà sicurezza gente che potrebbe non trovare la sicurezza in un mondo che è imprevedibile per sua natura la realtà per sua natura è imprevedibile no non possiamo è imprevedibile ed è tra virgolette ingiusta anche se io abolirei l'utilizzo del termine giusto e ingiusto però questo no esatto è una discussione filosofica molto lunga che non è il caso di fare qua però è quello la vita è ingiusta esatto e a volte è difficile reagire perché magari cresciamo con la convinzione che in realtà la giustizia sia un diritto mentre in realtà no in realtà no è un gioco nel caos in cui tu hai delle carte da giocarti e sta a te come fare e magari altre persone hanno molto più carte di te o hanno delle carte molto più forti delle tue e non è colpa tua e non ci puoi fare niente puoi solo giocare le tue esatto ma adesso queste cose qui le vediamo ok e a proposito di regole fisse che ti vengono date nei videogiochi e la vita non te ne dà così fisse a lui viene prescritto un farmaco a base di risperidone che è un allora risperidone sono andato a vedere che cos'è ovviamente il farmaco ha un nome farmaco cioè un trademark ha un nome farmacologico sì sì ha un trademark questo qui è il principio attivo comunque risperidone è un antipsicotico atipico ossia un antipsicotico di seconda generazione e antagonista della serotonina che quindi regola l'umore ed è usato per trattare la schizofrenia e il disturbo bipolare anche una marea di effetti collaterali i peggiori che ho trovato sono la depressione problemi di movimento e aumento del rischio di suicidio ma quello ce l'hanno quasi tutti i psicofarmaci che veramente mi fa esplodere la testa quell'effetto collaterale lì dici ma allora eh sì infatti lui Elliot allora gli hanno gli hanno gli hanno prescritto cioè se gli hanno prescritto è perché eh però cioè scusami nella diagnosi non dice schizofrenia no? questa qui è molto dopo questa qui penso che sia intorno ai 18 anni intorno ai 18 anni però quindi per prescrivergli questa cosa vuol dire che gliel'hanno diagnosticata no? eh penso di sì ma infatti stavo dicendo per quello stavo dicendo è l'unica l'unica diagnosi poi ho detto no forse ce n'è un'altra perché appunto se arrivano a prescrivergli questa cosa qui evidentemente hanno visto che è un minimo di almeno comportamento bipolare se non schizofrenia qualcosa cioè nel senso ce l'aveva perché non penso che gli prescrivano il risperidone così no? sì che a quanto pare è anche un farmaco abbastanza hardcore è un farmaco abbastanza hardcore cioè non è leggero quindi per prescriverlo ci devono essere delle serie motivazioni anche perché con degli effetti collaterali comunque pesanti vuol dire che ne deve proprio valer la pena di prescriverlo esatto poi negli Stati Uniti va detto prescrivono gli psicofarmaci con una facilità forse esagerata non sono un'esperta scusatemi non è il mio campo però mi sembra che in Italia queste cose vengano prescritte in modo molto molto oculato mentre negli Stati Uniti c'è una grossa facilità prescrivere cose perché vabbè Big Pharma paga i dottori però dobbiamo dire di no dobbiamo dire di no va bene diciamo di no si facciamo incazzare anche Big Pharma senti una volta eravamo tutti d'accordo che Big Pharma era il male poi non si è capito perché all'improvviso non lo è più però no no assolutamente allora in Italia c'è una divisione dei a quanto ho capito c'è una divisione dei compiti c'è lo psicologo e lo psicoterapeuta che ti aiutano in un percorso psicologico senza farmaci e poi c'è lo psichiatra che ti somministra cioè che ti può prescrivere somministrare i farmaci sì tecnicamente sì tecnicamente sì io conosco dei psicologi che subito alle prime sedute hanno consigliato però poi non non è un'esperienza di prima mano quindi non posso metterci la mano sul tuo allora che io sappia la grossa differenza è questa che lo psichiatra è quello che diciamo il medico che ti può somministrare cioè può somministrare può prescrivere i farmaci lo psicologo invece è solo un percorso terapeutico esatto tecnicamente sì non voglio offendere nessuno mentre in america questa cosa qui è molto più cioè nel senso psichiatra e psicologo sono non dico la stessa cosa però sono interscambiabili tra di loro quindi tutti prescrivono tutto comunque appunto penso che glielo prescrivano a 18 anni questa cosa qui perché lui si può permettere di non prenderlo dicendo dopo aver fatto ricerche su questo farmaco ho scoperto che era assolutamente sbagliato da prendere per me che cioè posso capire che ti possano spaventare le controindicazioni quello lì spaventerebbero anche me però se un medico te l'ha prescritto non sei tu che puoi decidere se è giusto o sbagliato cioè non dovresti essere tu a decidere se è giusto o sbagliato per te no però potresti comunque chiedere un secondo parere cosa che in realtà lui non fa bisognerebbe fare sempre poi vabbè nel sistema italiano ciao addirittura chiedere un secondo parere però in teoria spesso anche molti medici te lo dicono addirittura chiedi un secondo parere sì sì ma assolutamente che secondo me sarebbe stato molto legittimo visto la tipologia di farmaco io capisco che lui si fa delle ricerche si fa due domande però non è che allora scegli tu chiedi magari affidati a un altro esperto senti un po' di opinioni diverse prima di fare una scelta del genere assolutamente ma soprattutto per le questioni mentali perché a un conto ti rompi un braccio lo vedi che c'è il braccio rotto è una cosa chiaro nel senso visiva fisica sulle cose mentali poi ovviamente nel senso non voglio sminuire nessuno sono tutti professionisti bravissimi riescono a centrare il problema però chiedere un secondo parere sulle questioni mentali non è una cosa secondo me sbagliata no ma penso che nessuno possa dire che sia sbagliato i medici stessi che io sappia spesso dicono chiedi comunque un secondo parere quindi esatto comunque appunto lui nel 2009 a 18 anni smette di prendere sto farmaco e si diploma così a freddo anche perché ci sono pure i modi per smettere di prendere i farmaci lui smette e basta lui io credo che lui non abbia mai cominciato neanche a prenderlo e non aveva nessuno dietro che lo seguisse quello sicuramente comunque appunto lui ai 18 anni pare che cominci a scollarsi cioè dalla realtà sempre di più a isolarsi dopo il diploma e e comincia anche a reagire in modo passivo aggressivo verso tutto quello che gli capita sì che è è una cosa sbagliata nel senso tu ti possono capitare le peggio cose ma puoi reagire in modo attivo dicendo di male virtù e quindi quello che mi capita di brutto lo sfrutto per fare nel senso per fare altro per cercarmi il famoso portone dopo che si chiuda la porta oppure quello che mi capita di male comincio a mugugnare comincio a essere sempre incazzato e comincio a prendermela con tutti quelli che mi stanno intorno perché è colpa loro e lui fa così fa così infatti anche al college cambia un sacco di college per banalità banalità perché vede gli altri che sono fidanzati a lui da fastidio questa cosa vede gli altri che sono felici a lui da fastidio definitivo che il santa barbara city college a isla vista e si trasferisce a isla vista perché perché l'ha visto nel film alfa dog ah e lui dice appunto nel suo manifesto dice è stato tutto perché ho visto il film alfa dog il film ha avuto un profondo effetto su di me perché raffigurava molti giovani di bell'aspetto che godevano di una vita sessuale piacevole ho scoperto che sfigato ho scoperto ho scoperto isla vista la piccola città adiacente al UCSB che sarebbe appunto il santa barbara city college dove tutti gli studenti universitari vivono e fanno feste quando l'ho scoperto ho avuto la disperata speranza che se mi fossi trasferito in quella città avrei potuto vivere anch'io quella vita quella era la vita che volevo una vita di piacere e sesso perché lui soffre tantissimo che le tipe non gliela danno fondamentalmente lui soffre di questa cosa qui e non solo si incazza con le tipe si incazza anche con i ragazzi a cui le tipe la danno perché lui appunto come dicevo sviluppa un atteggiamento passivo-aggressivo nella vita non cerca di capire il perché succede una cosa ma ovviamente comincia a dare la colpa agli altri quindi se quella cosa lì non succede non è perché ho sbagliato io l'approccio verso quella cosa lì e perché quella persona lì che poteva far succedere sta cosa ce l'ha con me senza conoscerti poi senza conoscerti e infatti cosa fa nel 2011 sempre secondo il suo manifesto diciamo che bagna con il caffè qui è lui che combatte contro le ingiustizie no? una tazza di caffè alla volta perché bagna una coppia di cui lui era molto geloso lui scrive che lui ha tirato il caffè a questa coppia perché in realtà lui voleva fare cose orribili a questa coppia volevo infliggere dolore a tutte le giovani coppie volevo ucciderli lentamente spellare la loro carne se lo meritavano i maschi se lo meritano per avermi portato via le femmine le femmine se lo meritano per aver scelto quei maschi al posto mio quindi ma cioè la cosa più sconvolgente è che da quello che ho capito lui manco ci provava con le tippe cioè lui si arrabbiava molto perché a volte lui andava tipo allo starbucks si sedeva vicino a un gruppo di ragazze e poi dopo quando le ragazze se ne andavano lui era incazzato che nessuna di loro ci aveva provato con lui ma che cazzo vuoi? ma cosa vuoi? cioè lui così vuole che gli arrivi la figa in casa poi ovviamente la figa di livello altissimo no? perché lui non è che ci ha mai provato con una ragazza non dico brutta ma carina no? sono le strafighe e come si permettono le strafighe di non venire con me come si permettono di andare con quelli più alti ma che cazzo vuoi? ma infatti monette moio cioè era molto bella era una ragazza molto bella tra l'altro c'è una foto dove c'è la lingua blu sì perché succhi e puffi no però è una ragazza molto bella cioè sì no e appunto lui voleva quelle cose lì però lui è convinto di essere brutto lui non è brutto va a gusti a me ad esempio non piace ma secondo me molte donne l'avrebbero trovato carino a livello fisico certo che arrivi e butti il caffè addosso alle persone cioè sei sempre aggressivo sei sempre incazzato ma chi cavolo ti troverà mai attraente ma infatti infatti poi lui appunto sempre con sa cosa tattica del caffè che è una cosa che funziona benissimo lui lo versa addosso il caffè di starbucks quindi dovete immaginarvi proprio i bicchieroni bicchierone sì 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 non l'espresso il caffè latte perché lui scrive mai latte sai che in inglese latte vuol dire caffè latte perché latte si dice milk invece di dire coffee milk il latte però vabbè lui ordinava quello da starbucks esatto lui tra l'altro tira a sto caffè anche una coppia di ragazze che pare non ricambi il suo sorriso cioè ci rendiamo conto sì non sono torti questi no no ma poi fa una cosa nel 2002 lui prende un super liquidetto sì no il super soccer in america lo riempi di succo d'arancia va al parco al grish park e comincia a spruzzare addosso gente che gioca kickball e io ho detto kickball sarà una cosa da cioè nel senso saranno tipo delle ragazze che giocano boh non so a prendere a calcio un pallone invece mi sono informato ed è una specie di baseball calcio in cui dai video che ho visto io per giocare a questo gioco bisogna essere un po' di persone profondamente scordinate fisicamente perché sono tutti scordinatissimi e poi si gioca a baseball ma invece che la mazza e la pallina c'è uno che lancia un pallone da calcio e l'altro che gli dà un calcione e poi corrono intorno però la cosa che mi faceva è che erano tutti scordinatissimi cioè non so perché boh non lo so comunque appunto lui a settembre del 2000 però scusa Marco scusa quando lui fa sta roba di andare a innaffiare col fucile ad acqua con l'aranciata queste persone al parco cioè lui quanti anni ha a questo punto lui ne ha a 21 anni a 21 anni ragazzi perché questa è la roba che fai a 13 anni ma assolutamente a 13 anni che sei scemo fai sta roba tipo che metti l'aranciata nel super liquidator e vai a innaffiare la gente al parco questa è una cretinata da 13 anni lui la fa a 21 anni ma senza neanche l'ottica di fare il famoso prank di fare lo scherzo no? c'è proprio con l'odio perché lui è talmente pirla che pensa che spruzzarti dell'aranciata sui vestiti sia un torto supremo perché vediamo per lui è tutto un torto no? sì sì è tutto un torto no però ma tu ho capito Clara ma perché tu non hai la visione di insieme di questa cosa cioè lui è incazzato col mondo ce l'ha con tutti quanti le persone che respirano gli stanno intorno lui va al supermercato e compra 3 kg di arance va a casa le taglia a metà e comincia a spremerle con odio perché per un super liquidator figa devi cazzo averne tanto di succo d'arancia io penso che l'abbia preso già spremuto no io mi immagino che lui no perché lui deve mettersi lì con le arance le spreme tutte poi gli fa male il braccio e dice maledetti guardate cosa mi fate fare e poi riempie il super liquidator e va al parco con questo super liquidetto magari ci mette anche lo zucchero perché così è più appiccicoso e tu non vedi la cosa di insieme questa qui è un grande gesto catartico se mi sarei botti i coglioni già a comprare le arance poi va bene comunque perché comunque lui è un terrorista in questo momento lui è un terrorista in modo ridicolo però è quello che sta cercando di fare cioè vuole distruggere la felicità degli altri invece di crearsi la sua che ripeto è un ragazzo che non è brutto è un ragazzo che sembra anche per quanto un idiota però intelligente nel senso che se tu leggi il manifesto comunque è tutto è scritto bene è scritto bene cioè non è scritto bene nel senso come un romanzo che ti prende sembra un temino però non c'è un errore di ortografia non c'è un errore di spelling che ragazzi con gli americani è cosa rara questo probabilmente è dovuto alle sue origini inglesi non lo so però è scritto tutto bene in più è ricco questo ragazzo è ricco perché forse non abbiamo passato quanto è ricco perché insomma il padre mi ha detto fa regista ma l'abbiamo un po' sfottuto il padre comunque se hanno soldi di famiglia o da dove vengono non lo so ha tanti soldi cioè questo ragazzo ritornando al paragone con avere le carte da giocarsi nella vita lui ha delle carte vincenti e basta lui avrebbe delle carte vincenti e basta sì perché comunque il nonno non era come dicevamo prima cioè fondata la magnum photos non era l'ultimo dei pirla arrivati sulla terra ma infatti un po' di soldini sicuramente li aveva lui il nonno è morto mi pare nel 95 quindi avrà lasciato un'eredità al padre sicuro sicuro perché il padre per quanto faccia dei buoni lavori non mi sembra così tanto ricco da come cioè loro hanno uno stile di vita più ricco rispetto a quanto guadagna il padre quindi per forza devono essere soldi dell'eredità così però insomma hai tutto hai tutto cazzo eh sì perché sei arrabbiato cioè io lo so che la vita ha sempre delusioni per tutti e anche i ricchi possono essere infelici però chi dice che i soldi non fanno la felicità non sa usare i soldi l'ho detto sì e non ha mai pianto in ross royce esatto meglio piangere in ross royce che in bicicletta esatto no è perché come dicevo prima lui misura la sua qualità di vita rispetto cioè guardando la qualità di vita degli altri e ovviamente è sempre inferiore perché se è sempre inferiore perché lui si impegna a essere infelice e gli altri invece cercano di essere felici cioè beh certo ma perché lui vede solo le cose positive che fanno gli altri nel senso anche il padre Lidl di Ashton Moio lo stuntman diceva mio figlio era una persona normalissima che non aveva avuto neanche tante ragazze no stava cominciando a fare lo stuntman perché lo facevo io e però anche lui aveva i suoi problemi come ce li avevano tutti solo che ovviamente finché le persone non vengono a piangerti addosso cioè non ti piangono addosso non ti snocciolano i loro problemi così ogni volta che le vedi tu non sai che problemi ha la gente no quindi sì ma anche perché secondo me proprio il cervello umano è impostato in un modo strano nel senso che pensi sempre che agli altri le cose stanno andando meglio non so perché cioè lo dai tipo per scontato è vero è vero è una cosa che succede anche a me a me sembra sempre di essere fermo al palo e tutti gli altri vanno avanti quando in realtà poi facendo mente locale straniandomi un attimo dalla mia dalla mia mente mi rendo conto che non è così è infatti però ci deve essere questo passettino indietro per vedere le cose nella prospettiva giusta e comunque appunto lui questa cosa qua cioè nel senso questo scollamento con la realtà aumenta perché lui nel settembre del 2012 comincia ad andare al poligono di tiro a imparare a sparare nel novembre 2012 si compra la sua prima pistola una Glock 34 di cui scriverà un'arma efficiente e di grande precisione ma lascia la recensione o lo scrive nel manifesto? no basta recensione che poi Amazon si incazza comunque ci oscura le puntate ragazzi se ci ascoltate su Amazon Music e manca una puntata non è colpa nostra la trovate sugli altri sulle altre piattaforme esatto comunque lui a inizio 2013 si prende altre due pistole si prende due Sig Sauer P226 scrivendo sempre sul suo manifesto di qualità molto superiore alla Glock e molto più efficienti sono tutte pistole comunque semi-automatiche di quelle che infili caricatore di quelle che non hanno senso di esistere si esatto di quelle molto pericolose comunque lui spenderà in tutto appunto 6.000 dollari in armi e munizioni 6.000 dollari sono tantissimi cioè comunque si parla di un 21enne che ha lì pronti 6.000 dollari da spendere riflettiamo anche su questo dice che sono i suoi risparmi e sono tutti acquisti illegali in California beh sì uno di 21 anni in California può spendere ai tempi adesso forse è cambiato qualcosa poteva spendere 6.000 dollari in armi siamo nel 2012 quindi 10 anni fa 12 anni fa nel senso non dici negli anni 80 no una roba così intanto lui apre diciamo lui si fa si fa le idee deve ovviamente diffonderle nel mondo visto che non riesce a diffondere il suo sperma il suo seme non riesce lui deve diffondere le idee sì e lo so claro dovevo dire sbordo no 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 ero indignata per lui non per il tuo linguaggio no perché c'è da come parla lui ma da come parlano anche gli altri non ci ha mai provato con nessuna ragazza cioè boh vuoi il sesso a domicilio no perché poi non voleva chiamare le agenzie di escort perché suo padre gliel'ha pure detto se te la vivi così male che non ti scopa nessuno chiama un escort che il padre già aveva i biglietti da visita pronti eh sì esatto vabbè ti faccio vedere il catalogo di papà però c'è adesso no se sei così disperato che vuoi fare sesso ci sono infiniti modi di fare sesso giustamente ci può stare dire io non voglio pagare giustissimo sono estremamente d'accordo però magari provaci con qualche ragazza magari provaci con qualche ragazza che non fa la modella magari prova a non avere quella faccia da stronzo tutto il tempo no quello sì prova cose oppure cioè smettila di sperare che le ragazze te la tirino come se non fosse loro lui è quello vuole che gli bustano la porta eh ho capito ma non funziona così ma non funziona così per niente cioè a parte le multe cioè il resto minchia veramente a parte le multe e le tasse l'agenzia delle entrate il resto cioè nessuno ti viene a bustare alla porta scusa voglio darti qualcosa no e comunque lui appunto apre il suo blog che è l'eliot rogers official blog per diffondere le sue idee e apre anche che già definisce la persona eliot rogers official official blog sì no no ma dico cioè non è che sei Brad Pitt che devi specificare che quello è il tuo scritto da te non è scritto dai fan cioè official cosa no ma perché poi ce n'è anche uno non ufficiale ce n'è anche i tuoi fan dovrebbero aprire un blog a tuo nome no e poi apre anche il suo canale youtube e lui qua comincia appunto a delirare su quanto è cattivo quanto sono cattivi gli altri nei suoi confronti no perché comunque allora i video di eliot rogers ovviamente su youtube non si trovano ma se li cercate li trovate ma si trovano da tutte le altre parti esatto è molto facile trovarli ma youtube li ha censurati tutti giustamente giustamente e lui parla sempre parla sempre dei chad e delle stesi oh mamma che sarebbero gli cioè i chad sono i ragazzi no i bei ragazzi quelli che i fighi i fighi brava ragazzi popolari i quarterback nelle scuole americane esatto e le stesi sono le belle ragazze tipiche americane bionde coi cappelli lunghi strafighe che stanno con i quarterback e lui comincia a sparare merda su ste ragazze e su sti ragazzi perché le ragazze appunto non gliela danno perché le ragazze guardano solo tre cose che sono il look i soldi e lo status sociale non è vero perché lui aveva tutte e tre non se lo scopava nessuno lo stesso ma infatti ma infatti c'è un video dove cioè lui tipo sulla tangenziale sì 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 a un certo punto passa anche la macchina e a un certo punto sì si sposta perché passa la macchina e lui dice io non capisco perché le donne non vogliono stare con me non capisco che cosa gli ho fatto perché io ho una macchinona ho un bmw lui aveva un bmw da 60 mila dollari mica ha 21 anni ha 21 anni no che non stai neanche lavorando e poi fa guardatemi sono favoloso guardatemi come sono che in effetti sei anche un bel ragazzo sì voglio dire io non sono un bel ragazzo come te però sono simpatico lui non è simpatico è proprio quello ma non è interessato è repellente cioè lui il modo in cui si pone repelle la figa perché tutto il resto avrebbe le carte in regola in teoria ma lui proprio a questo modo passivo aggressivo come dicevi tu di porsi rabbioso allora molti incel ok sono convinti che le donne sono tutte gold digger le cercatrici d'oro che quindi vogliono un uomo ricco e si dimenticano una cosa fondamentale perché molte donne sono attratte effettivamente degli uomini ricchi non è solo banalmente per i soldi perché tutti vogliamo più soldi no non siamo e quello può essere un elemento ma non è quello è la personalità l'uomo di successo no trasmette sicurezza in se stesso e la sicurezza in se stessi è la cosa che attrae di più le persone soprattutto le donne è proprio così ogni persona è diversa sto facendo una generalizzazione però è così quindi lui si pone proprio nel modo meno appetibile e se le donne fossero tutte gold digger con il 21enne con la macchina da 60.000 dollari si metterebbero non si mettono con lui perché è repellente e non cioè state proprio affrontando il problema sbagliando tutte le premesse assolutamente ma assolutamente perché poi lui anche nel video dice no anche perché io ho questi occhiali da 300 dollari di Giorgio Armani che i ricchi veri non ti dicono io gli occhiali da 300 dollari ce la diciamo sta cosa un ricco non ti dirà mai quanto costa una sua cosa senza che glielo chiedi no assolutamente assolutamente però appunto lui dice che le donne guardano solo il look i soldi e lo status sociale cosa che appunto come dicevi tu Clara è vera perché chi c'è i soldi è perché ha fatto cioè ha avuto successo ma chi ha avuto successo di solito non sempre però sì no ovviamente sì poi vabbè ci sono che ne so i criminali mafiosi che magari hanno i soldi però però anche loro spesso hanno tante donne perché per la questione della sicurezza in se stessi ma guarda Messina Denaro aveva un sacco di donne non è che fosse un bijou inspiegabilmente no perché esatto è una questione di atteggiamento ma è una questione di atteggiamento anche con le ragazze nel senso le ragazze o le ragazze verso i ragazzi no perché se tu ti approcci a una persona già da sconfitto già da uno che viene mandato a fare in culo la ragazza o il ragazzo ti manderà a fare in culo sì perché perché tu già stai suggerendo quello che deve fare questa persona no quindi è proprio una questione di atteggiamento è una questione di approccio poi ovviamente non puoi farti che ne so Angelina Jolie perché non sei in quel mondo lì sì no cioè nel senso è possibile come cazzo ne so in Notting Hill no che che Julia Roberts si innamora del libro che riferimenti del secolo scorso sì sì però è impossibile che succeda nella vita reale a meno che tu non sia in quel mondo lì no cioè ovviamente le modelle no le supermodelle così si innamorano si innamorano stanno con gente di successo attori calciatori e cose del genere perché perché sono due mondi che si incrociano certo le feste chiaro i podcast non andranno mai alle feste insieme ai calciatori e alle supermodelle eh no non c'entreremmo un cazzo esatto quindi cioè è anche sbagliato puntare a quella cosa lì perché è un mondo a meno che non fai di tutto per entrare in quel mondo lì però per entrare in quel mondo lì devi avere successo devi fare determinate cose che ti fanno comunque acquisire stima e fiducia in te stesso che poi attirerà la gente che è in quel mondo lì sì certo sì sì no no ci sta ci sta come ragionamento ma guarda facendo questi ragionamenti qui posso condividere una realizzazione che ho avuto io alle medie devi che è una roba che mi ha aperto gli occhi tantissimo allora ero ancora molto piccola quindi non pensavo ancora ai ragazzi nel modo in cui ci avrei pensato qualche anno dopo ok e ho conosciuto questo ragazzo che era forse aveva uno due anni in più di me quindi un pochino più grande e mi aveva turbato tantissimo questo ragazzo perché era oggettivamente brutto ma io ne ero molto attratta nel modo in cui comunque una ragazzina può essere attratta niente di e mi ricordo che forse ne avevo parlato anche con mia mamma sulla mia confusione di questa cosa dicendo ma lui è brutto però mi sembra che mi piace come è possibile e io ho capito perché perché era una persona molto simpatica e molto anche sicura di sé che non si faceva le paranoie perché aveva tutta l'acne in faccia no cioè lui ed era molto piacevole era estremamente gentile anche cioè era sia gentile era gentile simpatico non era quel gentile viscido che ho sempre detestato e questa è stata una realizzazione che ho avuto che avrò avuto guarda 12 anni al massimo forse anche cioè perché ero talmente una bambina che pensavo che a te piacciono quelli belli no non avevo valutato tutto il resto e vabbè io ci sono arrivata a 12 anni e gli otroge mai non ci arriverà mai ok perché comunque tornando alla sua vita nel luglio del 2013 succede l'avvenimento che poi gli farà scattare lui dice la molla per fare tutto quello che farà perché lui è andato a una festa è andato a una festa pensando che vada alla festa la figa mi arriverà proprio cioè come come le monete sulle calamite certo e invece cosa succede invece lui è su un terrazzino ci sono delle ragazze che stanno scherzando e ridendo e lui dice cazzo stanno ridendo di me no non t'hanno manco visto cazzo probabilmente sì esatto e allora cosa fa scusa perché ha fatto allora cosa fa si avvicina le attacca e prova a buttarle buttarne due spingerne due oltre il parapetto il parapetto era tre metri d'altezza queste ragazze ovviamente si divincolano cominciano a urlare chiamano arrivano i ragazzi i ragazzi che per tutta risposta lo sollevano e lo buttano a lui oltre il parapetto giustissimo giustissimo poi soprattutto va bene lui dice che era anche ubriaco che comunque lui atterra male e si fa male una caviglia non credo che se la rompa perché poi non ci sono record che sta a casa con la caviglia rotta quindi è probabile una storta una botta una roba del genere comunque ci sono i suoi occhiali di Giorgio Armani da 300 dollari rimasti lì nella casa nell'appartamento dove lui ha fatto sto casino qua torna su per prendere gli occhiali e si stronzi gli saltano addosso lo insultano e lo picchiano ancora giusto giusto cioè qua ci sono tutte le botte che avrebbe dovuto prendere la sua vita tutte concentrate in una sera sola sì perché a un certo punto cioè ha cercato di fare veramente male delle ragazze cadi di testa muori eh eh ma certo non è che sono tre metri chi se ne frega ti puoi fare malissimo se cadi male puoi comunque paralizzarti anche da un'altezza così esigua cioè che cacchio non è 20 centimetri tre metri ma no ma assolutamente ma poi c'è nel senso ma ti pare che tu vai a una festa e c'è la gente che ti guarda si mette a ridere davanti a no lo fanno alle spalle quindi non te ne saresti mai accorto cioè se qualcuno ride di fronte a te starà ridendo per i cazzi suoi sì e comunque non è che puoi buttarli giù dalla finestra sì esatto e comunque la reazione non è e se tu cerchi di ammazzare delle persone se poi delle altre persone ti picchiano come conseguenza del tuo atto eh ragazzi però allora noi diciamo sempre non bisogna dire te la sei cercata però in questo caso sì ma assolutamente assolutamente comunque un vicino di casa che lo vede rientrare dice che stava quella sera lì stava piangendo e stava bofonchiando di vendicarsi contro chi gli aveva fatto del male questo qui lo dice un vicino poi non so come l'abbia sentito quanto era vicino di casa no poi lui nel manifesto dice che questo è stato il fattore scatenante no di cioè che tu sei un idiota che cerchi di ammazzare cioè quello è quello il fattore scatenante sì sì infatti lui dice il mio obiettivo principale erano le ragazze volevo punirli per aver parlato con ragazzi odiosi invece che con me che non sei odioso per niente come ci stai dimostrando no ma infatti infatti perché guarda i nice guys quelli che dicono ah le donne piacciono gli stronzi le donne ignorano i bravi ragazzi come me chiunque dica la frase i bravi ragazzi come me non è un bravo ragazzo esatto mai quindi sappia se voi anche se per qualche motivo ci sta ascoltando qualche ragazzo che si ritiene un bravo ragazzo non ditelo mai ad alta voce e fatevi un esame di coscienza perché forse state guardando la realtà da un'angolazione strana esatto ok esatto comunque appunto tornando alla vita di scusa ma si vede che mi toccano queste cose sì 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 no meno male che l'ho fatta io questa puntata è che tu non ci sei no perché penso se ci fossi stata a commentare comunque che non cambia un cazzo ma come fai comunque nel gennaio 2014 succede un mezzo patatrac perché lui accusa uno dei suoi coinquilini che è Cheng Yuan Hong di avergli rubato delle candele delle candele delle candele no e lo denuncia la polizia ma Hong aveva già dei precedenti per taccheggio e quindi succede un mezzo casino la polizia va a casa va così alla fine queste candele saltano fuori sotto il letto ma che candele sono quelle di cera che ne so sono quelle a forma di cat non lo so non lo so ma costano due dollari cioè che furto è no non lo so forse erano alla menta piperita che costano due dollari e cinquanta quindi ladro comunque questo qui è già un primo atteggiamento diciamo violento verso una persona che comunque ti vive in casa cioè nel senso quindi in teoria sei dei coinquilini o stai bene o non stai bene però cambi casa no cioè nel senso questo qui è un atteggiamento che diciamo potrebbe rovinare i rapporti di persone che vivono con te e direi il 30 aprile 2014 per i post sul blog per i video che sta caricando perché sono tutti più o meno deliranti anche quando non parla di figa parla di figa e cioè sono deliranti i genitori chiamano la polizia cioè i genitori probabilmente la matrigna no si chiama la polizia perché è preoccupata o la madre direttamente chiama la polizia perché è preoccupata di quello che sta dicendo della deriva che sembra aver preso Elliot Roger e chiede alla polizia se possono fermarlo per fargli un TSA o un in italiano il TSA o comunque un ricovero d'urgenza coatto si in realtà la polizia va a casa sua e lui è calmo e tranquillo e spiega che c'è stato un fraintendimento e che loro hanno travisato quello che ha detto che i genitori sono sempre così che lui aveva litigato con i genitori quindi questa è un po' una loro vendetta e la polizia non gli fa niente e arriviamo qui siamo il 30 aprile 2014 arriviamo al 23 maggio 2014 perché è il famoso retribution day ossia il giorno della punizione perché lui tutta la sua vita l'ha spinto lui dice cioè nel senso non lo sto dicendo io lui dice che tutta la sua vita l'ha spinto in questa direzione qua e cosa succede? che il 23 maggio non si sa se il 23 prima o proprio quel giorno lì lui uccide a coltellate i due i suoi coinquilini più un altro ragazzo che era ospite loro e sono appunto Wei Yan Wong Hong cioè Hong il ragazzo che aveva denunciato e poi il terzo è questo George Chen sono tutte e tre di origine asiatica e sembra da quello che ha poi ricostruito la polizia che loro cioè che lui li ha presi mentre loro entravano in casa perché ci sono delle macchie di sangue anche nel corridoio fuori dalla porta quindi è come se lui li avesse aspettati quando il primo è entrato in casa lui l'ha attaccato col coltello poi è arrivato il secondo e l'ha attaccato col coltello e poi Chen probabilmente era stato invitato quando è arrivato lui gli ha aperto l'ha fatto entrare e l'ha attaccato Chen è quello che prenderà più coltellate perché ne prende 94 mamma mia che è una quantità indefinibile di coltella Chen anche fisicamente è difficile dar cioè devi essere proprio incazzato sì perché già con una ventina di coltellate si parla già di overkilling di solito sì infatti gli altri due uno ne aveva 15 e l'altro 20 e poi questo qui 94 quindi pensano anche che siano successi a orari differenti no perché comunque beh sì non può attaccare tre ragazzi da solo no però appunto la disposizione dei corpi la quantità di coltellate eccetera sembra che siano stati fatti tipo in escalation no sì e poi lui prova comunque a pulire un po' il corridoio a pulire la casa con delle tovaglie delle come si chiamano degli asciugamani stracci sì dei tovaglioli eccetera però non riesce alle otto e mezzo esce di casa e va a bere un caffè al bar poi dei testimoni ricordano di averlo visto in macchina effettivamente alle 21 e 17 viene caricato su youtube il suo ultimo video che viene che lui chiama Elliot Rogers Retribution ossia la punizione di Elliot Rogers e lui nel sì vi ho tradotto come punizione perché sarebbe il giorno di cioè quello che ti fa vedere lui no la pag la vendetta la vendetta sì ti ritorna quello che hai dato esatto esatto sì più o meno l'ho tradotto come punizione per far capire e lui dice domani è il giorno della punizione il giorno in cui avrò la mia vendetta contro l'umanità contro tutti voi negli ultimi otto anni della mia vita da quando ho raggiunto la pubertà sono stato costretto a sopportare un'esistenza di solitudine rifiuto e desideri insoddisfatti tutto perché le ragazze non sono mai state attratte da me e quindi è colpa delle ragazze certo le ragazze davano il loro affetto il loro sesso il loro amore ad altri uomini ma mai a me ho 22 anni sono ancora vergine non ho mai nemmeno baciato una ragazza ho frequentato il college per due anni e mezzo e anche di più in realtà e sono ancora vergine ed è stato molto contorto cioè che che tu vai al college e scopi ma certo in automatico vabbè lui è uno di quelli che vuole la figa comunitaria sì sì la figa di stato che avevamo parlato in un'altra puntata sì sì e poi lui dice il college è il momento in cui tutti sperimentano cose come il sesso il divertimento e il piacere in quegli anni ho dovuto marcire nella solitudine non è giusto voi ragazze non siete mai state attratte da me non so perché ma prova a chiederlo a una ragazza prova a chiederlo perché non siete attratte da me ti fanno la lista e tu ci lavori cazzo esatto oppure tu me la daresti no perché e ti fai fare lo chiedi a 3-4 ragazze e poi alla fine avrai un elenco di difetti a cui puoi rimediare o comunque puoi non far vedere comunque lui dice non so perché voi ragazze non siete attratte da me ma vi punirò tutte per questo è un'ingiustizia è un crimine perché non so cosa vedete in me sono l'uomo perfetto eppure vi lanciate addosso a questi uomini odiosi invece che su di me il supremo gentiluomo the supreme gentleman Marco ma certo cioè i gentiluomini supremi vanno sempre in giro con un super liquidator carico di succo d'arancia cioè proprio ma in effetti dopo sto discorso dopo il super liquidator dopo tutte queste cose qua ma sai che mi pento di non averla figa perché avrei voglia di dargliela che poi tra l'altro appunto lui è arrabbiato perché le ragazze non gliela danno allora c'era c'è ancora no perché ancora vive però faceva il comico un po' di tempo fa Stefano Grimelli che aveva secondo me una battuta divertentissima che diceva il potere delle donne non è nel dartela o non dartela il vero potere nelle donne è nel dartela e poi togliertela che è una cosa cioè ovviamente contestualizzata nella cosa poi faceva ridere sì sì era una battuta all'interno di un monologo certo esatto però è una cosa che mi è rimasto impresso perché è vero perché una donna ha potere su di te no ma poi che cazzo sto dicendo cioè non è che una donna ha potere su di te cioè tu no stavo cercando di entrare questa puntata sta aprendo la mente di Marco in modi che non aveva mai pensato no no nel senso che cioè nel senso lui è tutto focalizzato così sul fatto che le donne non gliela danno no cioè che non si innamorano di lui non gliela danno la danno agli altri non a lui e lui si chiede appunto cosa avevi detto in me ma il fatto che cioè nel senso comunque non sta parlando di esseri umani no certo le donne non sono esseri umane è chiaro che sì esatto è chiaro che le donne nella sua mente non sono esseri umani infatti poi adesso vediamo il suo manifesto perché appunto alle 21 e 18 manda il suo manifesto a tutti quanti a 34 persone 141 pagine di autobiografia scritte tipo tema delle superiori 107 mila parole ok no ok perché gli americani si ho contato le pagine del pdf scusate sì sì no comunque appunto sono 140 pagine intitolato my twisted world the story of Elliot Roger no quindi il mio mondo twistato il mio mondo sotto sopra sì no sì sì e appunto la manda 34 persone tra cui il mio mondo perverso anche twist lo puoi tradurre come perverso è vero è vero comunque la manda 34 persone in tutto che sono amici di quando era piccolo che non sono poche comunque non sono poche sì io sarei imbarazzato a far leggere quelle cazzate a gente che mi conosce però fa niente e lo manda anche appunto ai suoi familiari ai genitori al terapista eccetera e tra l'altro di questo manifesto qua lui probabilmente ne aveva già parlato perché suo padre già lo sapeva suo padre poi dirà che lui già lo sapeva di questo manifesto gli aveva chiesto di poterlo leggere e Elliot gli aveva risposto no no te lo farò leggere a tempo debito fra poco perché erano un giorno che si erano vissi una cosa del genere lui gli aveva detto di leggerlo e appunto questo manifesto spazia tra varie cose ed è anche molto razzista perché lui a un certo punto non so leggere le cose razziste lui si scaglia contro chi ha genitori di etnie diverse no e dice appunto soprattutto la sua che è tipo cina europea certo sì no e lui dice che appunto lui vorrebbe essere cito le sue parole no lui vorrebbe essere bianco perché nessuna donna bianca andrebbe con con uno di origine mezza cinese lui tra l'altro schifa ma non è vero eh lo so schifa le coppie interraziali interraziali brava come suo padre perché suo padre secondo me ora io non è che voglio psicanalizzare il padre però aveva anche proprio una sorta di fetish perché mi sembra che esce sempre con donne che rispetto a lui magari sono tra virgolette esotiche quindi secondo me aveva un po' una fissa così il padre che in qualche modo ha influenzato sta testa matta del figlio sì è possibile perché lui proprio cioè è come se lui odiasse se stesso lui odia se stesso certo lui odia se stesso lui odia la sua altezza odia il suo aspetto fisico perché si vede allora secondo me comunque adesso vedendolo così da uomo dico che secondo me è un bel ragazzo cioè ha dei benimenti no ma certo non è mica brutto secondo me Marco lui è fissato con la cosa di essere parte asiatico sì ora mi potrei sbagliare ma mi sembra un classico esempio di persona con la sindrome del cazzo piccolo ora fatemi spiegare che cos'è la sindrome del cazzo piccolo perché ogni volta che lo dico arrivano i maschi col cazzo piccolo piangendo dicendo eh body shaming ma body shaming cosa è una sindrome psicologica non vi sto veramente guardando il cazzo ce la può avere anche uno col cazzo grosso è quando ritieni di avere qualche mancanza importante a livello sessuale che non è neanche necessariamente la dimensione ok può essere qualsiasi cosa nel caso di Elliot vedendo come ragiona cioè male lui probabilmente soffriva di non averlo anche nel suo caso direi che è anche una questione di dimensioni grande come quello che magari vedeva nei porno che lui infatti nel manifesto ogni tanto parla del fatto che lo disgustavano i porno queste cose qua e dà la colpa alla sua origine asiatica dato che ci sono delle cioè le varie etnie tendenzialmente hanno anche misure diverse a livello di organi genitali e questo non è razzismo ragazzi eh dati di fatto poi ognuno è sempre no vabbè la questione è che tu devi generalizzare no perché devi generalizzare perché non possiamo parlare di ogni persona singola però dato che normalmente è così secondo me lui soffriva sta cosa ora voi potete dire Clara ma che teoria stupida sì ma non mi sembra un genio Elliot in base alle sue teorie quindi secondo me il suo razzismo cioè perché questo ragazzo ancora vergine lui dà la colpa alle donne ma come abbiamo detto mille volte lui non ci prova con le ragazze non cerca di sedurle il padre gli dice di chiamare le escort e lui nemmeno a pagamento lo vuole fare che è una cosa comprensibile cioè questa qui no però è perché il fatto che lui si fa schifo perché stavo ribadendo la cosa perché lui si fa così schifo da solo no cioè lui dice sono basso io sono che non lo è mezzo cinese eccetera quindi io mi faccio così schifo che figurati se piaccio alle ragazze quindi non ci provo nemmeno per non essere rifiutato no che poi bastava che si appassionasse un po' il cosplay andasse a qualche cosa di anime avrebbe fatto un successone ma sì assolutamente ma poi comunque la cosa fondamentale a parte la sicurezza in se stesse è una cosa che attira le altre persone il fatto che tu dai l'idea di volerti bene perché se tu parti che dici io faccio schifo e cioè è ovvio che poi gli altri non possono altro che provare schifo nei tuoi confronti perché tu ti poni in quel modo lì no cioè è tutto un atteggiamento ovviamente tutti sappiamo leggere il linguaggio del corpo a livello inconscio poi c'è chi lo fa a livello conscio però c'è quello che ci ha permesso appunto di a riprodurci e b sopravvivere fino a oggi no perché altrimenti se non sapessimo leggere queste cose qui a livello inconscio non ci saremmo mai copiati saremmo stati tutti lì sulle nostre rocce no ad aspettare che passasse una figa adesso te la do a te nel senso così no perché queste cose qui sappiamo leggerle quindi se uno si pone in quel modo lì sbagliato che comunque parte da perdente e parte da uno che si fa schifo da solo è ovvio che l'altra persona non dice cazzo questa qui è la persona della mia vita dirà questa persona fa schifo perché no e lui appunto ad esempio sulle persone sui neri dice io sono bello e mezzo bianco discendo dalla aristocrazia britannica lui discende dagli schiavi perché le donne vanno con lui e non con me che è una cosa fuori di testa e poi ovviamente parla del retribution day del giorno della punizione dice il giorno prima del giorno della punizione inizierò la prima fase della mia vendetta ucciderò silenziosamente quante più persone possibile attorno a Isla Vista attirandoli nel mio appartamento attraverso qualche forma di inganno infatti uccide in realtà lo stesso giorno i due coinquilini più il terzo amico la seconda fase avrà luogo lo stesso giorno della punizione poco prima del massacro culminante la mia guerra alle donne attaccherò proprio le ragazze che rappresentano tutto ciò che odio nel genere femminile la confraterna la confraternita più sexy della della UCSB infatti poi lui attaccherà per primo cioè lui andrà per primo a una confraternita dell'alfa pino e poi sulle donne c'è questo delirio che è una cosa agghiacciante dice le donne sono una piaga non meritano di avere alcun ragazzi cioè questo qui è quello che dice cioè non sono parole parole mie non prendetevelo direi che è evidente Marco no perché adesso dice cose che sono anche abbassate nel senso che a me hanno un po' toccato comunque dice le donne sono una piaga non meritano di avere alcun diritto la loro malvagità deve essere contenuta per evitare che le generazioni future cadano nella degenerazione le donne sono animali feroci malvagi e barbari come tali devono essere trattate c'è qualcosa di mentalmente sbagliato nel modo in cui è collegato il loro cervello come se non si fossero evoluti dal pensiero animale sono incapaci di ragionare o di pensare razionalmente sono come animali completamente controllate dalle loro emozioni impulsi primordiali e depravati eh figa te non hai avuto a che fare con le donne col ciclo ma non sa neanche che cos'è lui no infatti infatti e poi qua arriviamo c'è una roba che eh sì bisognerebbe mettere in quarantena tutte le donne nei campi di concentramento in questi campi la stragrande maggioranza della popolazione femminile verrà deliberatamente lasciata morire di fame sarebbe un modo efficiente e appropriato per ucciderle tutte farei costruire un'enorme torre solo per me e le guarderei morire tutte con gioia io sogno un mondo puro dove la mente e l'uomo può svilupparsi a livelli più alti che mai le generazioni future vivranno la loro vita senza doversi preoccupare della barbarie del sesso e delle donne qualsiasi cosa il che consentirà loro di esprimere la propria intelligenza e far avanzare la razza umana verso uno stato di civiltà perfetta allora è questo delirio cioè ovviamente magari è gay ma non lo so chiaramente nel caso sessualità non accettata ma a me no perché se no se la prenderebbe quei ragazzi secondo me è proprio una questione che lui vede appunto le donne non come persone ma come un obiettivo da raggiungere e quindi io non lo posso raggiungere allora le facciamo morire tra atroci sofferenze esatto sì sì perché lui proprio le vuole vedere soffrire cioè lui tra l'altro le vuole vedere morire con gioia tutte quante una roba scusate ma c'è rido ma no vabbè ma c'è una roba talmente assurda no che cioè faccio fatica a capirla no sì perché sto anche pensando a tutti i casi che abbiamo trattato non mi viene in mente un serial killer che arrivi a dire queste cose no no a me viene in mente Hitler cioè nel senso beh sì vabbè il campo di concentramento sì no no le cose perché no perché altre cose e lui comunque appunto avendo mandato questo questo delirio di 140 pagine ad amici parenti i genitori il padre la madre adesso non so se anche la matrigna comunque partono per Santa Barbara beh chiaro già che ci sono chiamano anche il terapista e il terapista poi chiama la polizia mentre sono in viaggio no mentre solo che lui ha già cominciato la sua strage perché appunto lui lì è islavista e va alla sede della confraternita delle Alfa P che è di quell'università lì la confraternita delle ragazze più carine quelle che vediamo nei film no quelle bionde le stesi ok ok va lì convinto di poter entrare dentro questa confraternita e fare una strage perché lui dice anche nel coso che le voleva decapitare tutte poi si immaginava viaggiare sulla sua bmw da 60 mila dollari e lanciare le teste a destra a sinistra come petali di rosa no si fa questa fusion tra Ted Bundy che va ad ammazzare le studentesse e Ed Camper che colleziona le teste e vuole fare questa roba esatto lui va lì bussa la porta diversi minuti e nessuno gli apre perché comunque è un idiota beh perché comunque cioè non è un piano fattibile comunque lui va lì bussa non gli apre e purtroppo questo significa la morte per quelli che stanno intorno perché lui si gira e comincia a sparare le prime persone che prende sono tre ragazze che erano lì intorno comunque sono le nove e mezzo di sera quindi è tardi c'è gente che sta tornando cioè che farà a mangiare che sta tornando a casa lui comincia a sparare le prime tre ragazze che becca due muoiono e una rimane gravemente ferita poi sale in macchina e adesso non sto a dirvi tutta la strada che fa ma comunque rimane lì intorno all'alfa P va avanti indietro e spara a caso fuori dal finestrino spara contro i diner spara contro i bar i posti dove la gente mangia e alla fine poi c'è anche una sparatoria un inseguimento con la polizia a un certo punto viene beccato perché intanto era stata allarmata la polizia viene beccato viene inseguito e c'è questo scambio di proiettili di colpi con la polizia lui viene colpito al fianco quando a un certo punto arriva nel senso arriva quando a un certo punto lui si schianta contro un marciapiede mi pare che forse c'è anche un palo comunque si schianta contro un marciapiede vanno a vedere e si è sparato in testa Elliot Rodger il 23 maggio del 2014 alla fine di tutta questa mattanza si spara in testa e la cosa finirà con 6 morti e 14 feriti di questi 14 feriti 7 sono stati feriti da armi da fuoco e 6 sono stati investiti perché lui appunto sparando fuori a caso dal finestrino becca un sacco di gente e poi passando per le strade finisce sui marciapiedi becca quelli che stanno magari con lo skateboard la bicicletta eccetera e li investe ci sono quelli che riescono a salvarsi comunque 6 persone alla fine muoiono purtroppo e la cosa ridicola è che la maggior parte di queste vittime sono uomini quindi anche tutto il tuo obiettivo di far fuori le donne così cioè l'hai fallito eh ma perché lui voleva la vendetta contro tutta la società cioè lui è misogino però è arrabbiato che la società funzioni come funzione perché chiaramente come odi le stessi odi anche i chad assolutamente con tutto che i suoi coinquilini non erano dei chad erano dei nerdoni che studiavano informatica quindi sì però erano asiatici lui aveva questo questo fatto che odiava la parte asiatica di se stesso questo è vero magari un elemento non lo so sì ma secondo me lui voleva solo io mi sono fatto l'idea che lui volesse comunque arrivare a togliersi la vita però togliendolo portandosi perché scusa questo qui che è un torto qualsiasi cosa non può stare in galera Marco cioè proprio proprio Elliot Rodger non ce la può fare in galera quindi anche secondo me il piano era di uccidersi sì ma secondo me cioè il piano era di uccidersi ma portandosi dietro più gente possibile chiaro sì sì infatti in macchina gli trovano le tre pistole poi gli trovano dei coltelli e gli trovano appunto sei caricatori da dieci colpi l'uno vuoti vuol dire che lui ha sparato almeno 60 colpi durante il suo viaggio e gli trovano altri 548 proiettili cioè quindi lui aveva intenzione di sparare molto di più minchia eh minchia sì wow quindi ne doveva sparare 600 in totale e ne ha sparati un decimo di quelli che avrebbe dovuto sparare sì sì lui pensava di fare una mattanza da guerra una roba così infatti poi tutta questa storia verrà etichettata come terrorismo misogino beh sì sì e ci sono tutte le conseguenze no di questa azione di questo folle a parte che tutta la comunità incel lo eleggerà a supremo gentleman a santo quando si parla male di lui arrivano quindi arriveranno anche in questo episodio preparati Marco ma io non vedo io sto già prendendo quello gli ansiolitici però Marco ti dirò io sono convinta di una cosa la maggior parte sono troll nel senso che ma adesso anch'io secondo me tanti non sono veramente incel cioè si divertono ad aizzare a non lo so a creare odio o magari non sono incel però gli stanno sul cazzo le femministe allora cercano di si comportano da incel per fare incazzare le femministe cioè secondo me c'è molto trolling nel senso online del termine assolutamente assolutamente poi ovviamente questa cosa qui ha avuto una risonanza nazionale internazionale pazzesca questo questo atto di Elliot Roger tanto che nei giorni successivi gli uomini hanno cominciato a postare su sull'allora twitter l'hashtag not all men cioè non tutti gli uomini non tutti gli uomini vanno in giro a fare una strage ma meno male che l'hai specificato perché io pensavo di sì no no meno male le donne le femministe le donne così hanno cominciato a rispondere all'hashtag con yes all women cioè sì tutte le donne sono vittime di patriarcato sono vittime di odio incondizionato e immotivato perché alla fine lui cioè gli incel odiano le donne in modo immotivato perché pensano di non essere fighi abbastanza e neanche si mettono in gioco perché sì perché come tutti gli psicopatici pensano che il la causa del loro male non sono loro stessi ma sono tutti gli altri perché in tutta questa storia qua Elliot non si è mai posto il problema non è che magari posso essere io no cioè che è una cosa che una persona intelligente e normale dovrebbe fare cioè a un certo punto se le cose ti vanno sempre male non può essere sempre colpa degli altri no cioè a un certo punto dovrebbe essere colpa tua è inutile che continui a dare la colpa agli altri dare la colpa agli altri è una cosa facile per lavarsi la propria coscienza sì ma anche senza farne un discorso di colpe puoi anche dire come posso io fare in modo che questa cosa non si verifichi più in questo modo e provare sì sì no io dicevo cioè nella visione negativa delle cose no a un certo punto se le cose ti vanno sempre male e devi trovare una causa la causa non possono essere solo gli altri certo cioè non ci può essere un esercito di gente che ti vuole male e vuole che tu fallisca su tutta la linea a un certo punto ti devi mettere tu una mano sulla coscienza e dire cosa non funziona in me no cosa sto sbagliando se di sbaglio si può parlare cosa potrei migliorare della mia persona per fare in modo che le cose comincino a girare come voglio io certo che è poi il riassunto della regola dell'attrazione della regola dell'universo tutte quelle cose lì è una questione di atteggiamento e non è solo per i rapporti uomo-donna o donna-uomo o sessuali in generale è anche una questione è per tutto è anche quando si vanno a fare i colloqui di lavoro per dire io vado al colloquio è ovvio che ci saranno altri candidati oltre a me però se comincio a pensare che tutti gli altri sono meglio di me che figurati se scelgono me che figurati io entro a fare il colloquio che sono già sconfitto c'ho le spalle basse c'ho la schiena curva non guardo negli occhi l'interlocutore rispondo male perché tanto anche se rispondo bene non mi prende e quindi è una questione di atteggiamento però appunto come dicevi tu Clara giochiamoci le carte che abbiamo al meglio delle nostre possibilità che le cose secondo me a un certo punto cominciano ad andare bene cioè nel senso io non sono bello non sono alto però comunque qualche fidanzata ad esempio l'ho avuta qualche lavoro l'ho avuto qualche soddisfazione nella vita me la sono tolta e non è che sono Einstein o no quindi le cose se uno le vuole e si pone con la giusta cosa succedono e quando le cose vanno male se non dà solo la colpa agli altri e diciamo si prende un attimo di responsabilità sua le cose poi secondo me a un certo punto cominciano anche a migliorare e lì boh dipende però sì secondo me appunto non è tanto questione di colpa ma cercare di capire come migliorare la propria vita perché purtroppo gran parte della vita si basa sulla fortuna però c'è una piccola parte che noi riusciamo a pilotare se ci impeccia insomma guardiamo dentro di noi prima almeno di guardare all'esterno poi vabbè allora in questa puntata abbiamo parlato molto male di Elliot come è giusto che sia perché è inevitabile è ovvio che ci sono dei problemi mentali ci sono dei problemi psicologici e io posso perché ecco ho notato che quando si parla di questa storia quando arrivano gli insult che si arrabbiano dicono ecco ma è il bullismo come il tuo che causa queste stragi no ragazzi perché allora non è che possiamo parlare bene di lui cioè questo è crema in comedy noi sfottiamo tutti killer no cioè non è che adesso facciamo un trattamento speciale per lui perché è chiaro che tutti i suoi comportamenti nascono da problemi mentali scusate non mi viene proprio per capire di cosa stiamo parlando ma questo vale per tutti tutti gli assassini no assolutamente cioè non è che lui è più speciale degli altri no lui è più sfigato degli altri perché siamo così arrabbiati con lui perché se vedi lo sfottiamo molto di più magari di altri serial killer che magari hanno fatto anche di peggio però noi quando analizziamo l'infanzia la vita di questi serial killer vediamo che caspita sono capitate delle sfighe enormi invece qui abbiamo una persona che ogni minima cosa la trasforma in una sfiga una persona che forse non è veramente stata vittima della vita ma che vuole vedersi come vittima però appena detto questo dico comunque che secondo me qualche mancanza genitoriale c'è stata senza voler accusare i genitori il padre fa interviste al riguardo ci è rimasto malissimo quindi non so dando la colpa perché non è colpa però se per forza se no non mi torna la logica di questa storia sì allora il fatto che lui si fosse potuto permettere di non prendere determinate medicine è perché sicuramente sicuramente non aveva nessuno intorno che lo costringeva e che vigilava sul fatto che le prendesse no perché problemi se ci sono e se possono essere risolti con dei farmaci cioè se tu anche non li vuoi prendere le persone che ti stanno intorno se ti vogliono bene comunque ti aiutano in qualche modo o a prendere i farmaci o comunque a seguire una terapia o a seguire se lui si può permettere di non andare a un certo punto di smettere con le terapie di smettere con i farmaci e non c'è nessuno che e non c'è nessuno che comunque lo costringe vuol dire che qualche mancanza intorno cioè non vogliamo dare la colpa ai genitori non vogliamo neanche giustificarlo cioè nel senso non è che dire aveva dei problemi psicologici no perché ripeto ce li hanno tutti ma ce l'abbiamo sì ma tutti quelli che si macchiano di questo tipo di reati di cui tutti i protagonisti del nostro podcast non ce n'è uno che ha le rotelle che girano nel modo giusto no ma è ovvio se no non farebbero quello che fanno esatto ma secondo me guarda sono d'accordo con te ma secondo me le mancanze iniziano dall'infanzia che non abbiamo un quadro completo della sua infanzia assolutamente no ma infatti io secondo me no ma sono completamente d'accordo con te io prendo quell'episodio lì perché secondo me quell'episodio lì è quello che più mette in luce questo aspetto di solitudine no di solitudine comunque di di essere lasciato alla deriva da solo a gestirsi da solo comunque lui fa scuola lui fa scuola ovviamente la comunità incel alcuni lo considerano un santo sì che comunque è una comunità molto piccola è una comunità molto piccola comunque appunto ci sono stati svariati tentativi di imitazione come con la settimana enigmistica perché Alec Minassian nel 2018 fa quella che viene chiamata la Toronto Van Attack in cui lui affitta un furgone non legge un furgone e comincia ad andare sul marciapiede causando investendo e uccidendo 11 persone ferendone altre 15 perché viene collegato a questo alla alla strage di di Elliot Roger perché lui su Facebook prima degli omicidi scrive una roba la prima parte è astratta nel senso che dice fanteria minassiana privata reclutata 00010 desidero parlare col sergente 4chan 4chan per favore poi c'è un codice c23249161 giocatevelo all'otto non lo so allora il sergente 4chan 4chan è una specie di sito forum in cui si parla di videogiochi di film varie cose quella parte lì l'ho tradotta così ma non l'ho capita sinceramente e poi dice appunto la ribellione degli insta è già iniziata rovesceremo tutti i chad e le stesi salutiamo tutti il supremo gentiluomo Elliot Roger e poi appunto prende non legge a sto furgone comincia ad andare sui marciapiedi investendo quante una trentina di persone uccidendo le 11 no e questo è solo uno dei di quello che succede cioè nel senso di degli sì sì no ma lui viene viene preso a modello ad esempio sì 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 cioè appunto la cosa che ho fatto riferimento all'inizio della puntata che è arrivata la mandrea di Insel su tiktok ma arrivano dappertutto perché proprio è quasi una divinità con tutto che ripeto secondo me gran parte lo fanno per trolling per litigare online sì però insomma sai per dieci che litigano online così per divertirsi magari ce n'è uno che anche lui non c'ha tutte le rotelle che funzionano e prende le cose la lettera assolutamente e poi succedono queste cose e niente quindi questa era la in realtà la comunità italiana c'è la famosa red pill italiana c'è cos'è forum il forum dei brutti il forum dei brutti ma non conosco onestamente no neanche io vado su quello dei belli certo esatto anche io vado su quello dei belli ma per rovinare la media per abbassare la media comunque c'è anche in italia per favore manteniamo cioè se volete commentare commentate sotto appunto la puntata di spotify mantenendo un tono umano e il più possibile pulito no perché così non denunciateci non non aspettateci sotto casa scriveteci sui nostri account social che sono cremincomedy.podcast e poi c'è su instagram poi c'è il gruppo di telegram cremincomedygroup poi c'è il sito cremincomedy.it in cui c'è la tab shop per andare a prendere le magliette serial killer e per vedere le live che stiamo facendo adesso siamo arrivati a fine marzo con ci sono ancora pochi posti per Mestre ci sono un po' di posti per Milano però poi basta dobbiamo ancora farla poi forse ne arriveranno altre ma si parla di più avanti sì più avanti probabilmente ad aprile non avremo niente no no esatto dobbiamo un po' riposarci e fateci sapere cosa ne pensate di questa puntata fateci sapere cosa ne pensate di Elliot Roger ovviamente con i toni da essere umani per favore non esagerate che poi io mi spavento e niente ci sentiamo settimana prossima per una nuova puntata di cremincomedy grazie ragazzi ciao 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 Grazie a tutti.